BASTA! 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 È FINITA! BASTA! 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 È FINITA! È FINITA! È FINITA! O meglio, non è ancora finita, manca una settimana, ma lo studio è finito, gli impegni classici sono conclusi, quindi, finalmente, arriva l'estate, questo significa amici, ragazza, mare, piscina, spiaggia, divertimento, tempo libero, ma soprattutto anche un'altra cosa, si torna, si torna, si torna, si torna a fare video, si torna, si torna dopo queste due o tre settimane di nulla e di questo vi chiedo scusa, vi chiediamo scusa, se io che zambo, o meglio, adesso per lui non è proprio finita, ha un paio di esami ancora, però manca poco anche per lui, quindi io perlomeno sono tornato e adesso appena riesco, mi organizzo e riprendo. È FINITA! Questa è l'importante però, stiamo tornando tutti e due, quindi, buona estate! Buona infestate, buon fine scuola, un bocca al lupo per le esami per quelli che ce l'hanno, e, che dire, divertitevi, spassatevela, e noi stiamo tornando, stiamo tornando, non siamo morti, torneremo più forti di prima, ok? Stiamo tornando, i Gamers Brothers stanno tornando! Cioè! Stiamo tornando, 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 st